Buongiorno a tutti! Benvenuti in un mio nuovo video, scusate l'assenza ma settimana scorsa sono andata un po' a mare anche se ho preso un sacco di vento, pioggia, bufera, insomma è stato un fine settimana catastrofico comunque sia, se non siete ancora iscritti al mio canale vi invito a farlo, di interagire con me come sempre di cliccare sotto sulla campanella per restare sempre aggiornati ad ogni mio video visto che non riesco a essere proprio costantissima e niente, iniziamo subito! Oggi parliamo di correttori che possono essere i correttori della vita oppure no, non lo sappiamo, ora lo scopriamo insieme mi avete richiesto in tantissimi su Instagram di farvi una comparazione tra lo shape tape classico di Tarte e l'ultra creamy, sempre di Tarte ovviamente, che sono due correttori diversi l'ultra creamy è una new entry in casa Tarte e soprattutto finalmente abbiamo Tarte in Italia questa cosa è favolosa perché io personalmente ho sempre comprato Tarte sul sito ufficiale spagando un botto di spesi doganali e quindi adesso ce l'abbiamo anche in store fortunatamente nel Sephora dove mi rifornisco io a Napoli hanno proprio lo stand, quindi riesco a vedere tutti i colori, tutte le cose sembra tutto magico, vorrei prendere tutto lo stand e portarmelo a casa e quindi niente, ho acquistato circa un mesetto fa l'ultra creamy e l'ho testato per bene per voi e adesso vi lascio al video recensione ho gli occhi truccati da stamattina, sono in pausa pranzo a casa quindi mi trovate adesso a registrare con voi e ho rimosso il correttore che avevo da stamattina quindi sono completamente struccata sia in viso sia sul contorno occhi ho solo truccato un po' gli occhi, un po' tra virgolette e adesso vediamo l'applicazione di un prodotto piuttosto che di un altro per quanto riguarda quest'occhio vado con lo shape tape classico quindi il correttore classico nella colorazione light medium a contrastare l'occhiaia un po' più scuretta è anche vero che adesso non ho delle occhiaie belle strong infatti io questa tipologia di correttore la uso tanto per lavoro e l'addizione spesso a un correttore un po' più fluido, un po' più leggero come quello di By Terry che vi nomino spessissimo il trucco sicuramente è quello di applicare poco prodotto io adesso non ne ho applicato pochissimo però ne ho applicato volutamente un po' di più per farvi vedere la differenza con l'altro occhio ok vedete che c'ha una leggera ombreggiatura sul giallino, sul corallino tra virgolette quindi dobbiamo andare ad addizionare un altro colore illuminante io ho sia light che fire neutral e andiamo con light e ne metto proprio pochissimo cioè praticamente così, poco 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 in più lo sfumo con quello sottostante e me lo tiro un po' più in basso questa zona qui solitamente mi unisco anche di una blender piccolina per rendere il prodotto un pochettino pochino più morbido più soft ok? e per amalgamare meglio il tutto anche con la base l'acqua micronizzata all'interno di una blender come questa fa sì che il prodotto che ha questa texture un po' più asciutta tende un attimino ad ammorbidirsi e a modellarsi sulla zona da trattare in questo caso l'occhiaia da quest'altra parte siccome non ho due correttori perché volevo provare prima la formulazione un po' come era per poi acquistare anche la colorazione da color corrector quindi un po' più corallo vado con light beige che è il 22B della formula shape tape creamy hanno creato proprio questa formula specificamente per chi reputava lo shape tape classico un po' secchino cambio pennello quindi utilizzo un altro pennello per non mixare le formule ed utilizzo il mio pennello preferito che è questo di Neve Cosmetics lo sky corrector per me stessa per altre persone non lo prediligo ma per la forma è fantastico la coprenza è ugualmente alta solo che ha una formula appunto un po' più morbida un po' più elastica come colorazione se andate di fretta potrebbe anche render bene se siete più o meno del mio colore mi guardo nell'anteprima ed è una cosa bruttissima come potete vedere diciamo che il risultato finale potrebbe essere similare solo che qui è un total matte e qui è un po' più luminoso più morbido si vede un po' più fresco va abbastanza coprente non full full coverage da questo lato invece non vado a stemperare con la spugnetta perché altrimenti toglierei eccessivamente il correttore essendo una formula comunque abbastanza cremosa non trovo la necessità di andare a stemperarlo con una blender bagnata piuttosto andiamo a fissare il correttore con una cipria la cipria super sottile che prediligo per il contorno occhi in realtà diciamo la stragrande maggioranza delle cipre in polvere libera va abbastanza bene comunque questa è quella di Laura Mercier vado prima a fissare il correttore qui che avevo lasciato scoperto se si va ad accumulare nelle pieghette toglietelo prima applicate la cipria poi vado anche di qua ok qui potete vedere il creamy e qui abbiamo l'altro il classico shape tape stavo per completare la base ma volevo farvi vedere come lo shape tape classico di Tarte si può utilizzare anche per il viso siccome sono leggermente abbronzata ma proprio leggermente andrò sicuramente con light medium mixato a light sono i due colori che utilizzo di più e li vado praticamente a tirare sul viso come se fossero dei fondotinta ma ne metto poco per volta perché siccome sono dei correttori quindi hanno una coprenza vedete abbastanza elevata non voglio fare un pastocchio non voglio fare effetto pastone con la blender di prima tampono un attimino qui dove sono leggermente abbronzata ma proprio leggermente ed alleggerisco il punto dove avevo messo troppo prodotto qui qui anche ho preso un po' di sole e quindi vorrei un effetto un po' più naso a patata bruciacchiato va in ciprio uso la stessa cipria per comodità perché ce l'ho qui sul desk e ora completo un po' la base con questa palette di Smashbox per il contouring e lo utilizzo un po' come blush insomma la completo un attimo e arrivo ok ho completato la base ed eccomi qui con la recensione che dire allora se mi seguite da un bel po' di tempo sapete benissimo quanto io ami lo shape tape classico di Tarte ma con il tempo e provando formule innovative perché comunque è un correttore abbastanza vecchiotto ma è arrivato adesso in Italia ma in commercio c'è almeno da sette anni sei anni insomma c'è da un bel po' mi sono resa conto che un po' a lungo andare tende a segnare il contorno occhi levita sicuramente tanto però bisogna saperlo utilizzare e cosa vuol dire che una volta che prendete manualità che imparate un attimino la quantità giusta da applicare può diventare il vostro correttore della vita io come ho detto anche nell'applicazione lo mixo ad un correttore un po' più reidratante un po' più morbido lo mixo ai miei famosissimi correttori By Terry gli Density che sono dei correttori sieri eccoli questi qua tendo proprio a mixare le due formule proprio perché con quello ho il full coverage quindi se ho un'occhiaia bella scura magari vado proprio con un medium o un light medium in base all'incarnato e poi successivamente vado con il Density per illuminare e non stratificare troppo perché effettivamente se non abbiamo il contorno occhi estremamente idratato se non lo curiamo maniacalmente se soprattutto abbiamo qualche segnetto in più con l'avanzare dell'età due correttori messi uno su un altro shape tape classici possono risultare un po' pesanti quindi se lavorati bene con la blender applicando una crema con tornocchi prima di mettere il correttore potrebbe essere una bella combo per le occhiaie belle strong invece l'ultra creamy è un correttore bello standard non che vi cambia l'esistenza come può essere appunto il tart se avete le occhiaie belle strong ma comunque un correttore valido devo essere sincera ho solo una colorazione come vi dicevo quindi in linea generale non riesco a farvi una recensione a 360 gradi ecco prendete questa recensione al 90% non al 100% veritiera proprio perché per provare un correttore secondo me bisogna testarlo con due le due colorazioni cioè la colorazione corallo o aranciata che va a correggere la discromia blu dell'occhiaia e il correttore illuminante il colore che ho preso io appunto è il light beige che è una via di mezzo per il mio colore se vado di fretta di mattina e soprattutto io non ho delle occhiaie extra strong quindi da solo mi riesce a correggere perfettamente il correttore a livello durata è ugualmente ottimo cioè è un correttore che comunque almeno su di me con tutta la FP2 tutta la giornata dura tanto quindi non segna non affatica il correttore resta sempre morbido ed elastico e devo essere sincera copre abbastanza bene non è un full coverage come appunto questo quindi comunque copre abbastanza quindi è un buon correttore le differenze allora secondo me parliamo di cosa cerchiamo da un correttore cosa ci aspettiamo che problematica abbiamo cioè ci dobbiamo fare un attimino queste domande perché se abbiamo delle occhiaie molto evidenti molto scure diciamo che l'extra creamy non è proprio il top a meno che non vogliate un correttore un po' più veloce da applicare da tutti i giorni però sappiate che l'occhiaia diciamo non la copre totalmente come invece la copre lo shape tape classico quindi se avete quel tipo di occhiaia bella strong secondo me dovete indirizzarvi sullo shape tape classico e vi ricordo sempre di avere quelle accortezze principali appunto di idratazione di levicatezza di struccaggio con un bifasico l'acqua micellare secca un pochettino quindi se usiamo un correttore un po' più asciutto un po' più coprente a lungo andare no meglio il bifasico invece se cercate una coprenza media un buon correttore quindi avete per dire le mie occhiaie che non sono scurissime e ma volete una coprenza leggera un'illuminazione della zona al contornocchi secondo me l'ultra creamy è un buon correttore quindi anche questo mi piace sono due correttori diversi se non erro tart ne fa un terzo prima quello lo comprerò poi magari vi farò sapere però sono due correttori diversi quindi dipende da quello che cercate e sono entrambi buoni devo essere sincera a me piacciono tanto lo shape tape è un correttore che io ho acquistato per tanto tempo per tanti anni sul sito ufficiale adesso che abbiamo un tart in Italia sembra un sogno sicuramente acquisterò altre colorazioni anche perché vabbè disastro dicevo io li rigenero ogni paio d'anni anche se qui la scadenza è di 6 mesi ma se conservate bene i cosmetici vi possono durare un po' di più diciamo che su altre persone li uso massimo 7-8 mesi dall'apertura poi li uso solo su di me quindi io solitamente sapete come facevo li compravo con il black friday dove praticamente sul sito ufficiale di tarta facevano delle svendite eccezionali e i soldi che rispermiavo sul sito ufficiale poi ce li rimettevo sicuramente di dogana di spese doganali per cui compensavo era un po' come comprarlo a prezzo pieno e quindi niente sono correttori che uso da tanti anni e mi piacciono tanto sicuramente ultima cosa poi vi mollo sono sicura che mi chiederete niente ragazzi cadono i correttori sono sicura che mi chiederete quale colorazione può andare bene per voi io vi consiglio se avete un sephora vicino casa di andarli a vedere dal vivo perché è importantissimo vedere dal vivo le colorazioni che io utilizzo ripeto su altre persone quindi come correttori su altre persone sono la medium che è un po' aranciata ma non è proprio scurissima e la light medium che è una colorazione un po' più luminosa ed è quella che utilizzo su di me principalmente e come punto luce vado ad utilizzare light o far neutral che sono due colori proprio chiarissimi vedete sono proprio bianchi invece questi sono quelli un po' più coralli niente ragazzi io spero che questo mini video vi sia stato utile la base mi piace tanto anche se ho utilizzato fondamentalmente dei correttori vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao